Il servizio fatture e corrispettivi online, il cosiddetto spesometro, è stato ripristinato sul sito dell'Agenzia delle Entrate, ma solo parzialmente. Dopo il tilt degli ultimi giorni, al momento, si legge sulla pagina web dedicata al servizio, non sono disponibili le seguenti funzionalità. Modifica dei dati fattura attraverso interfaccia web, visualizzazione delle notifiche di esito delle sole fatture elettroniche, delle comunicazioni trimestrali e IVA e quelle relative ai corrispettivi, precompilazione dei dati all'interno della funzionalità di generazione dati fattura. A causa del problema tecnico che ha bloccato il sito, ieri l'Agenzia delle Entrate, ha deciso una proroga dal 28 settembre al 5 ottobre della scadenza per presentare gli adempimenti fiscali.